bibbia parola di yahweh puntata 5 il peccato originale non c'è nella bibbia e non c'è nemmeno la mela a pagina 40 genesi 3 3 7 si legge ma del frutto dell'albero che sta in mezzo a gialdino elohim ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare altrimenti dovrete morire ma il serpente disse la donna non morirete affatto anzi elohim sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come elohim conoscendo il bene e il male allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza prese del suo frutto e ne mangiò poi le diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò allora si aprirono gli occhi e tutti e due conobbero di essere nudi intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture nella bibbia la mela non c'è la sua favola nacque quando la bibbia fu tradotta in latino l'albero del male divenne malum appunto male in latino termini che significa anche melo e da lì l'invenzione della mela in tutta la bibbia mangiare il frutto in questo caso dell'albero della conoscenza del bene e del male che stava al centro dell'eden indica compiere l'atto sessuale il verbo conoscere viene sempre usato per indicare l'atto sessuale il serpente il termine nahash significa sì serpente ma anche colui che ha conoscenze profonde il nahash era uno degli elohim rese ad amo ed eva geneticamente fertili contro il volere iniziale del capo degli elohim e gli fece mangiare il frutto dell'albero della conoscenza ossia li fece riprodurre facendogli compiere l'atto sessuale notare inoltre che è scritto che eva mangiò il frutto prima senza damo ossia il primo atto sessuale lo fece con il nahash da cui nacque caino e poi ne diede da mangiare l'adamo da cui nacque abele la cacciata dall'eden che significa accampamento recintato e protetto fu la punizione al fatto che si fossero riprodotti acquisendo l'autonomia riproduttiva il peccato originale quindi nella bibbia non c'è e questo lo confermano tutti i maggiori biblisti cattolici ortodossi ed ebrei il peccato originale è un'invenzione di paolo di tarso e questo è affermato dalla stessa nota 316 della bibbia di gerusalemme che specifica ma perché sia espresso l'insegnamento di una colpa ereditaria bisognerà attendere che paolo di tarso metta in parallelo la solidarietà di tutti in cristo salvatore e la solidarietà di tutti in adamo peccatore nel 1854 pio nono programò il dogma dell'immacolata concezione ossia l'unico essere umano ad essere stato concepito senza peccato originale ma non essendoci peccato originale nella bibbia quel dogma dogmatizza il nulla bibbia 6 parola di yahweh puntata 6 bibbia riassunto dei testi più antichi la prima parte della bibbia dalla presunta creazione da adamo ed eva che la chiesa cronologicamente fa risalire al 4004 avanti cristo fino ad arrivare al diluvio universale con noè viene liquidata in dieci paginette ed è una storia copiata dai racconti più antichi di altri popoli gli hindu i sumeri e tanti altri popoli antichi in tutto il mondo i cui scritti parlano della creazione dell'uomo avvenuta per opera di extraterrestri attraverso modificazione genetica dell'uomo erectus è il riassunto della leggenda sumera contenuta nel documento il cilindro della creazione datato 2500 avanti cristo mentre la bibbia fu scritta solo 2000 anni più tardi nel 600 avanti cristo nei racconti sumeri ad esempio l'alter ego di noè 2350 avanti cristo era ziusudra anche lui scampato il diluvio causato dall'allinanzamento delle acque causato dalla vicinanza di un pianeta alla terra nella tradizione indiana dell'india era nihua comunque noè per stare 14 mesi in navigazione sulla terra e ospitare tutte le specie viventi di animali e il cibo necessario avrebbe dovuto costruire un'arca grossa come l'italia tra l'altro come fece ad andare a prendere gli orsi volare al pol nord e altre specie lontane è un mistero gli animali carnivori cosa hanno mangiato nell'arca evidentemente hanno mangiato vegetali e quindi anche gli animali carnivori possono mangiare vegetali no poi appena noè scende dall'arca dopo aver sputato sangue a costruire un transatlantico a caricarci dentro centinaia di migliaia di coppie di animali portandoli in giro sulle acque per 14 mesi samandoli per 14 mesi finalmente cara dall'arca e cosa fa secondo la bibbia sacrifici animali per il signore solo una mente devastata può partorire con tante assurdità